Nessuna traccia della donna di 81 anni dispersa da ieri pomeriggio a Caprezzo con il suo cagnolino. Entro ottobre il cantiere di via Rosmini a Domodosso la sarà concluso ma i commercianti lamentano il protrarsi dei lavori. Dall'Alpec Rampiolo il Betelmat 2022 la siccità ha diminuito la produzione di latte ma la qualità non ne ha risentito. Fino all'11 settembre ad Arona Acti il festival di teatro e poesia nel Porto Antico tutte le sere lo spettacolo Cenerentola. Dal 3 novembre al via la stagione teatrale alla fabbrica sul palco a Villa D'Ossola tra gli altri in Mannino, Marco Reda a Porto. Da venerdì 9 a domenica l'Ossola ospita la settima edizione dei campionati mondiali di Skyrunning Spagna favorita. Fetta oggi a Domodossola. Ben ritrovati a una buona serata dalla redazione di VCO Notizie. Ricerche in corso a Caprezzo per un'anziana della quale non si hanno più notizie. Da mercoledì pomeriggio nessuna traccia della signora Clelia a bordisco 81 anni dispersa da ieri pomeriggio nell'area di Caprezzo. Siamo sulle alture del Verbano. L'ultimo avvistamento mercoledì verso le 17 nella zona Alpepont era insieme al suo cagnolino. Impegnati nelle ricerche il soccorso alpino civile, il soccorso alpino della Guardia di Finanza con due unità cinofile, i vigili del fuoco, i carabinieri forestali e i carabinieri. In campo l'uso massiccio della tecnologia ha sorvolata l'area con i droni, attivati i ricercatori di celle telefoniche. Impiegato il sistema dedalo dei vigili del fuoco si è lavorato sulla cartografia. In tutto in campo circa 35 persone che hanno battuto la zona e attivato pure il nucleo dei moto alpinisti dei Giovanniti. Le ricerche iniziate stamattina presto sono proseguite per tutta la giornata, ma la donna sembra svanita nel nulla. Dall'ultimo avvistamento di ieri, dicevamo, all'Alpepont c'è un unico sentiero dal quale ha potuto plausibilmente scendere verso Caprezzo. Quel tracciato è stato interamente battuto a ripetizione, ma non è stata ritrovata alcuna traccia né della signora né del suo cane, nessun abbaio o guaito. La ricerca è in corso fino al sopraggiungere del buio, la ripresa alle prime luci dell'alba. Un uomo di 64 anni stava attraversando la statale del Sempione sulle strisce pedonali nel territorio di Dormelletto, quando è stato investito da una moto e è accaduto alle 12.45, non lontano dall'hotel Sirio e dal ristorante La Rotta. Il traffico si è bloccato subito su ambo i sensi di marcia, su una delle auto in coda. C'era un medico che è sceso dalla vettura e ha prestato le prime cure al ferito, poi con un'ambulanza della Croce Rossa di Arona, distaccata al 118, è stato trasportato alla Dea dell'ospedale Santissima Trinità di Borgo Manero. Le sue condizioni, che in un primo tempo parevano gravi, sono migliorate, tanto che è stato definito dai medici fuori pericolo, lievi ferite per il motociclista, pure lui trasportato con una seconda ambulanza al Dea di Borgo Manero. Le cause dell'investimento e le eventuali responsabilità sono al vaglio dei carabinieri di Arona intervenuti con una pattuglia del nucleo radiomobile, disagi per la circolazione e per il fatto che è avvenuto in un momento in cui il traffico era intenso. E ora andiamo a Domodossola, dove alcuni commercianti della Via Rosmini lamentano il protrarsi del cantiere. Il progetto è quello denominato dal Borgo della Cultura al Sacro Monte Calvario, un investimento importante di diversi milioni di euro, cofinanziato con fondi dei bandi emblematici della Fondazione Cariplo e che porterà la completa riqualificazione della zona che va da Piazza Tibaldi fino ai piedi della Collina del Calvario. Che cosa chiedete? Chiediamo, cosa chiedevamo più che altro? Chiedevamo di essere un po' più, che avessero un po' più di attenzione per noi, per le nostre attività della Via Rosmini, perché i lavori si sono prolungati, dovevano finire a giugno, poi giustamente noi possiamo capire tutte le problematiche che ci sono, siamo andati incontro, noi a loro e viceversa fino a un certo punto. Però adesso che iniziano le scuole pensavamo di poter lavorare diversamente, purtroppo è ancora tutto transennato, adesso ci sono le prescuole e abbiamo tutta la gente dall'altra parte delle nostre attività, essendo tutto transennato le persone giustamente non vengono di qua e perdiamo un sacco di lavoro. Avete stimato che all'incirca la perdita del vostro giro d'affare supera anche il 50%? Siamo in perdita netta, ci aspettavamo questa perdita e abbiamo sopportato, ringraziamo tutti per averci supportato, ringraziamo anche il comune che ha fatto un bellissimo lavoro, però non possiamo aspettare adesso arrivare alle porte dell'inizio della scuola e avere una situazione del genere. A nostro parere è stato un po' stato male, non c'è mai stato un dialogo per fare delle vie di mezzo che portavano comunque a permetterci a lavorare a noi. Che cosa avrebbe potuto agevolare il vostro lavoro? Un coordinamento migliore, qua non sappiamo la data esatta che apriranno, io scaricare le robe è tutto complicato, perché io ho un ortofrutto e mi arriva la roba, la devo portare con i carrelli, lontano, non mi hanno fatto un passaggio, spero che miglioreranno, anzi spero che finiranno il più prosto possibile. E per la fine dei lavori bisognerà attendere ancora qualche settimana. Entro ottobre sarà completata anche la piantumazione del nuovo verde, fanno sapere da Palazzo di Città. L'assessore ai lavori pubblici di Domodosso la spiega, ho frequentato con costanza il cantiere, le opere hanno seguito un piano prestabilito, l'ordine dell'avvio dei lavori non è certo casuale e quando possibile i collegamenti tra un lato e l'altro della via sono stati garantiti. A fine lavori la zona avrà certamente un aspetto diverso, è infatti l'obiettivo finale quello attorno al quale ci siamo concentrati, non bisogna dimenticare che siamo in presenza di un investimento di diversi milioni di euro che nel corso dei lavori ha incontrato anche alcune difficoltà tecniche che con professionalità sono state risolte, le parole dell'assessore Falciola. Ed ora saliamo all'Alpe Crampiolo. Per parlare di Bettelmat, quest'anno è diminuita la produzione di latte a causa della siccità, ma questo non inficia la qualità del formaggio. Siamo circondati da circa 500 forme di Bettelmat. sono una parte di quelle prodotte in questa estate 2022, dove prima di tutto? Allora, queste qua provengono da uno dei sette alpeggi che è l'Alpe Sangiatto qui all'Alpe D'Evero. Gli altri due alpeggi all'Alpe D'Evero sono Poiala e Alpe Forno e poi ci sono quattro alpeggi in Valformazza. È stata un'estate molto siccitosa. Questo in qualche modo ha influito sul vostro lavoro e sulla produzione del Bettelmat? Sì, nel senso che l'estate è partita bene con molta erba e la stagione era in anticipo rispetto agli altri anni. Però poi col seguirsi delle settimane comunque la siccità un po' gli animali hanno risentito. Quindi comunque erba più secca e minor produzione, anche se la qualità del prodotto non ne ha risentito. La famosa erba mottolina ha avuto dei problemi con la siccità. Si racconta, mi dirai tu se è vero o no, che è uno dei segreti di questo formaggio così speciale. Sì, diciamo che il segreto è l'erba mottolina, ma tutte le erbe che sono presenti in quest'area, che comunque è un'area delimitata di produzione del Bettelmat. Inizialmente ce n'era molta e poi col passare del tempo è calata. Però comunque la stagione è quella, le tipologie di erba presente negli alpeggi sono quelle e cambia proprio solo il tempo di monticazione degli animali. Quindi quest'anno gli animali sono saliti prima, ma scenderanno anche un po' prima. Il tempo di stagionatura del Bettelmat, quanto riposeranno qui queste forme e quando poi potranno iniziare a essere vendute? Allora, le forme stanno minimo 60 giorni in cantina. Tutti i giorni poi devono essere ribaltate, pulite con acqua e sale e lavate. Dopo i 60 giorni un ente marchiatore verrà in ogni cantina di ogni azienda e marchierà le forme al compimento dei 60 giorni. Solo le forme che meritano il marchio Bettelmat. Un'ultima curiosità per noi golosi, come lo abbiniamo il Bettelmat? Beh, sicuramente un bel bicchiere di vino solano, un nebbiolo dei nostri solani, un prunente, la morte è sua. Partita la nuova edizione di Acta, Rona città teatro sull'acqua, il festival di teatro e parola, direttrice artistica e Dacia Maraini, come tradizione la scrittrice, ha dedicato una pièce al festival. Si tratta di Cenerentola. L'appuntamento è tutte le sere a partire dalle 21.30 al Porto Vecchio di Arona. Arona città teatro, dodicesima edizione del festival, diciamo, delle due rocche, dell'Arona teatro sul lago. Dacia Maraini per la dodicesima volta a dirigere questa manifestazione? Sì, vengo sempre molto volentieri perché dovunque si parla di idee, si raccontano storie, secondo me si migliora. E la guerra non c'è, perché la guerra è azione. Quando invece il pensiero diventa protagonista, secondo me le cose vanno meglio. Questi ragazzi sono il valore aggiunto di questa manifestazione? Sì, infatti, è la cosa bella di questo festival, bisogna dire grazie a Luca, che è riuscito a coinvolgere tantissimi giovani, ragazzi delle scuole, dei licei, che vengono da tutto il territorio. Cenerentola, un rappresentatore teatrale che ha scritto lei il brano? Beh, Cenerentola nasce dall'idea che è una fiaba bellissima, è una fiaba che è entrata nella geografia dei nostri pensieri. Però ho detto, chi sarebbe oggi Cenerentola? Non più quella che accendeva il fuoco, puliva i pavimenti, ma sarebbe probabilmente, per esempio, una immigrata, immigrata, che ha delle difficoltà a inserirsi e che ho messo insieme l'immigrazione con le difficoltà fisiche. Lei, per esempio, facendo un lavoro che non dovrebbe fare, perché di sfruttamento, perde una gamba. E allora la scienza le permette di avere una gamba finta, ma che funziona benissimo. E la sua risoluzione non è più il bacio del principe azzurro, ma la scienza e la volontà. Perché con la volontà riesce a superare la sua menomazione e a vincere tutte le gare. Tutte le sere nel porto antico di Arona, in Piazza del Popolo. Veniamo alla sua ultima opera letteraria, un omaggio per Paolo Pasolini. Beh, l'ho sognato più volte e ho detto, ma forse dovrei raccontare un po' e parlargli un po'. Si può parlare con un morto, no? Perché se lo sogniamo vuol dire che in qualche modo è presente nel nostro pensiero. E quindi ho cominciato a scrivere e mi sono venuti in mente tanti ricordi che non avevo più... avevo dimenticato. E ora a Stresa Festival, ieri sera il penultimo concerto del cartellone di quest'anno. Palcoscenico inusuale ieri sera per Stresa Festival. Il capannone industriale della logistica Erno Alesa ha ospitato il violoncellista Stefan Braun e un modo, lo avete visto, decisamente innovativo di suonare questo strumento. I suoi concerti sono sempre sorprendenti per il pubblico. Dopo gli studi di musica classica e jazz, Stefan Braun ha individuato nell'improvvisazione la modalità di esprimersi, nella quale più si trova a suo agio. Nel concerto da solista utilizza amplificazione ed effetti elettronici, dispiegando un ampio range musicale che va dalla musica barocca di Bach agli standard jazz di Miles Davis, dalle canzoni pop di Lenny Kravitz alle proprie composizioni. La sua spettacolare tecnica violoncellistica si unisce ad una raffinatezza ritmica e a invenzioni melodiche sempre originali. Venerdì alle 20, serata di chiusura di Stresa Festival 2022 al Palazzo dei Congressi, con una delle orchestre più antiche e allo stesso tempo più innovative della Svizzera, l'Orchestra Sinfonica di Basilea, diretta per l'occasione dal maestro Ivor Bolton per la prima volta al Festival di Stresa. Solista, la violinista Akiko Suvanai, una delle più importanti interpreti a livello internazionale. Il programma della serata presenta tre lavori orchestrali significativi del periodo classico, firmate da Beethoven e Mozart. E partirà il prossimo 3 di novembre una nuova stagione teatrale alla fabbrica di Villa Dossola, questa mattina la presentazione del nuovo cartellone. Si parte il 13 di settembre con la conferma dei vecchi abbonamenti e per tutto il mese si andrà avanti con la vendita degli abbonamenti anche online e anche dei singoli spettacoli. Villa Dossola un nuovo sforzo per assicurare una grande stagione teatrale. Sì, io sono veramente soddisfatto di questa nuova stagione teatrale che abbiamo appena presentato. Saranno nove spettacoli, uno in più rispetto all'anno scorso, ha dei costi contenutissimi perché gli abbonamenti saranno aumentati di solo 10 euro ma con i vari sconti i prezzi si posizionano come quelli dell'anno scorso. Devo dire che sono soddisfatto soprattutto e vi do un'anteprima di uno spettacolo che sarà per me il regalo di Natale ma per noi tutti che sarà fatto il 20 di dicembre e che avremo qua su questo teatro Teresa Mannino che è questa famosa comica siciliana e voglio dirvi che solamente due teatri in Piemonte avranno quest'artista e uno siamo noi. È una soddisfazione immensa e abbiamo percorso nelle scelte tutto quello che ci hanno chiesto i nostri abbonati di volere qualcosa di molto leggero, una prosa classica. Riproponeremo anche alcuni spettacoli musicali con Neri Marco Re e un altro ma soprattutto avremo La Bella e le Bestia che è un musical perché l'anno scorso il musical è stato apprezzato tantissimo. Adesso noi aspettiamo solamente che i nostri abbonati riconfermino il loro abbonamento e che se ne aggiungano anche quelli nuovi. Ricordandovi che stiamo facendo veramente un grandissimo sforzo per proporre questa stagione teatrale perché i costi di gestione di questo stabile sono diventati importantissimi. Per cui aiutateci a mantenere questo teatro. Vi aspettiamo tutti. Siamo ora all'appuntamento settimanale con Donare per Crescere in collaborazione con Fondazione Comunitaria VCO che torna dopo la pausa agostana. C'è in collegamento con noi il Presidente della Fondazione Maurizio De Paoli. Presidente, dopo la pausa estiva la Fondazione Comunitaria del VCO ha ripreso a pieno le proprie attività e in questi giorni si tirano le somme di alcune importanti campagne di raccolta fondi. Effettivamente l'estate per le campagne di raccolta fondi è stata una stagione davvero positiva. Ricordo che al 31 agosto si è conclusa la campagna di raccolta fondi per il progetto Tutti in campo che si propone di ristrutturare l'oratorio di Villa Dossola per trasformarlo sempre di più in un centro di aggregazione per i giovani di Villa Dossola, della Valle Antrona e dei comuni limitrofi. Non semplicemente con attività sportive ma anche con opportunità formative ed educative. Pensate che l'obiettivo di raccolta fondi iniziali era 50.000 euro. Poi portato 80.000 euro, quando la campagna si è conclusa il 31 agosto erano stati raccolti 134.000 euro. Segno che la comunità ci crede in questo progetto. Questi soldi serviranno come cofinanziamento per partecipare a un bando più importante grazie al quale poter davvero completare un progetto che supera come costo i 300.000 euro. Sempre in estate è stata avviata un'altra importante iniziativa che è quella dell'acquisto di una ambulanza pediatrica per il BCO legata e promossa a quel grande evento sportivo che è Beach for Baby che sempre ha sponsorizzato anche iniziative di tipo benefico. Anche qui l'obiettivo di raccolta fondi era circa 100.000 euro. Siamo già arrivati a oltre 56.000 euro a cui si sommano i 20.000 euro di contributo della Fondazione Comunitaria e sono sicuro che ormai manca circa un mese al termine della campagna di raccolta fondi. Penso che anche qui raggiungeremo l'obiettivo. Nelle ultime settimane sono state avviate nuove campagne di raccolta fondi grazie al bando For Funding. Quest'anno come fondazione abbiamo avviato per la prima volta un bando sperimentale che si chiama For Funding proprio per aiutare le campagne di raccolta fondi e associare a dei progetti. Ci tratta di un'iniziativa con la quale noi raddoppiamo la raccolta fondi che viene fatta in fondazione per questi progetti. Al momento sono tre i progetti che abbiamo provato. Il primo è promosso dall'associazione Canova che da alcuni anni sta ristrutturando e recuperando un antico borgo il borgo di Ghesh a Ponte Maglio di Oira. È un progetto piccolo, 10.000 euro, quando verranno raccolti 5.000 scatterà il raddoppio. Gli altri due progetti sono più impegnativi e riguardano due interventi di tutela del patrimonio artistico che sono il primo della parrocchia di Giffa e il secondo della parrocchia di Trobaso. Per quanto riguarda il progetto di Giffa il progetto è di 40.000 euro per il restauro di una chiesa di una parte, di un intervento all'interno della chiesa di Giffa quindi quando saranno aggiunti 20.000 euro noi raddoppieremo. Per quanto riguarda Trobaso il costo del progetto è 30.000 euro anche qui lo stesso discorso, quando arriveranno a 15.000 euro i fondi raccolti noi li raddoppieremo. Prima del Covid la Fondazione Comunitaria aveva promosso un progetto condiviso da tutti i club di servizio del VCO. Pensate di riproporre questa iniziativa? Il club di servizio della nostra provincia sono 10. Abbiamo l'Essor Optimist, il Rotary, 4 Lions, 2 Kivanis e poi abbiamo il Leo Club e il Rotaract che sono i gruppi giovanili di Lions e di Rotary. Negli anni precedenti alla pandemia, grazie a dei progetti condivisi avevamo potuto raccogliere molti fondi a favore del centro Ajars di Domodossola e a favore di un progetto che voleva sostenere i soggetti autistici. Ecco, la pandemia naturalmente ha interrotto questa bella collaborazione noi all'inizio di ottobre riuniremo i presidenti di questi 10 club e vedremo se con loro sarà possibile individuare un progetto condiviso cioè deve essere un progetto che interessi e riguardi l'intera provincia del VCO. Se riusciremo a trovare l'accordo, il meccanismo sarà quello che abbiamo già collaudato e quindi ogni club ammetterà 2.000 euro e noi raddoppieremo il totale quindi diciamo che potremmo arrivare a 36-40.000 euro per un progetto significativo. Bene, grazie Presidente. E ora siamo alla pagina sportiva. Da domani, venerdì 9 a domenica, 11 settembre, l'Ossola ospita la settima edizione dei campionati mondiali di Sky Running. presenti 37 nazioni di tutti i continenti per un totale di 256 atleti e atlete con 27 medaglie in palio. Oggi pomeriggio festa d'apertura a Domodossola con la gara dei più piccoli. È arrivata l'ora X, la cerimonia di apertura in piazza Mercato oggi con una grande festa di colore preceduta da una corsa dei più piccini. Domani si parte con tre giorni di grande sport in Ossola. Sì, ci siamo. Due anni fa è partita questa avventura, l'idea di tre organizzazioni, di tre gare, concretizzata poi con il coinvolgimento dell'intera Ossola. Perciò un sogno che adesso è diventato realtà, anche una visione che in questo momento è concreta. Una cosa di certa, l'Ossola ha vinto, non abbiamo vinto solo un organizzatore ma tutta l'Ossola. In quanto sono tre vallate che ospiteranno le gare ma ci sono coinvolti comuni come Crevola d'Ossola, Domodossola. C'è un'intera comunità che si è mossa con l'intento della produzione del territorio. Come dicevi tu, una grande festa, aperta con questi splendidi bambini che hanno fatto una conice bellissima, divertentissima, tanto colore. Domani il protagonista è la Valle di Vedro, poi Formazza e infine Bognanco. Sì, si partirà domani in Val di Vedro con la gara vertical al pomeriggio alle 16. Ricordiamo che ci sarà l'utilizzo degli impianti gratuiti. Sabato e domenica invitiamo tutti Formazza, sabato e domenica in Val Bognanco. Anche lì ci sono tanti sentieri per cui si può andare sul campo di gara a vedere le gare ma invitiamo anche a venire all'arrivo. È bello, secondo me, che l'Ossola si faccia vedere unita. Facciamo un appello, ragazzi, venite. Sabato a Valdo in Formazza, domenica all'Alpegomba a Bognanco facciamo vedere a queste 35 nazioni e a questi atleti che provengono anche da oltreoceano perché abbiamo veramente tanti continenti. Facciamo vedere quanto è calorosa l'Ossola. Il basket prima amichevole per la Paffoni che ieri sera ha affrontato a Rona di C-Silver. Punteggio azzerato da ogni quarto e nel punteggio complessivo larghissima affermazione rosso-verde. Prima amichevole per la Paffoni a Palabagnella contro a Rona ma in vista anche del debutto in Super Cup parisamo appunto la Mami, coach in prime sensazioni. Ma buone, ovviamente, la differenza di categoria si è fatta sentire, quindi ci è andato un po' tutto bene, però l'atteggiamento è quello giusto, la fatica si è fatta sentire strada facendo e anche questo, tutto sommato, è un aspetto positivo. Però ci sono tante buone indicazioni e tanti buoni spunti. Ora, la partita di sabato è abbastanza vicina, quindi non è che possiamo chissà inventarsi chissà cosa, però credo che la strada sia per o meno a conferma del buon percorso che abbiamo fatto fino adesso. A livello fisico che squadra hai provato? Hai avuto delle cose che cercavi? Sì, tra l'altro giocatori che sarebbero dovuti andare diciamo a scartamento ridotto sono riusciti a fare anche dei pezzi interessanti di partita. A livello fisico mi sembra che stiamo bene, siamo in grado di spendere un po' di energie e questo era quello che volevamo a questo punto, quindi tutto in linea. Che cosa chiedi al Superforma? È di andare avanti il più possibile, è in questa formula un po' scelerata che è venuta fuori, però le giocheremo tutte fino in fondo se arriviamo in casa, quindi un po' per orgoglio personale, un po' per rispetto verso il nostro pubblico, l'obiettivo è provare a vincere il più possibile. Poi il campo ci dirà chi in questo momento dell'anno è un po' più avanti. Dove deve ancora migliorare la situazione? Sicuramente come giochiamo praticamente in tutto, però diciamo i primi tre passi sono tutti stati positivi, tutto il resto c'è da lavorare e migliorare. E così chiudiamo questa edizione del nostro giornale vicioazzurativ.it e le nostre pagine social per tutti gli aggiornamenti. Grazie per essere stati in nostra compagnia e buona continuazione di serata. Grazie per la visione!